Per giocare a carta bianca. Carta bianca? Sì, bella. Stefania Mosconi, segretaria dell'Associazione Culturale Mino Martina Zoli a Domolo. Grazie mille per la carta bianca. Qual è la novità? La novità è il prossimo appuntamento di venerdì 31 gennaio, sempre nella sala civica di disciplina Castanedolo, sempre promossa appunto dall'Associazione. Conferenza sul tema Un nuovo patto per lo sviluppo del Paese, con illustri relatori come nostra consuetudine. Avremo il ministro dello sviluppo economico, il senatore Stefano Patuanelli, il cavaliere ingegnere Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, Oscar Giannino, giornalista a tutti conosciuto, soprattutto per la sua competenza anche nel mondo economico-finanziario, e l'incontro coordinato da Riccardo Benchiaruti, giornalista, appunto di lui estremamente conosciuto. L'incontro si svolge a Brescia, la città di Brescia e la provincia di Brescia fanno parte del nord della Lombardia, una regione che si propone sempre più come motore per una ripresa e uno sviluppo economico e quindi sicuramente il luogo perfetto per approfondire questa tematica. E' starciù!